Megatron ha profanato il riposo dei nostri antenati caduti sul campo di battaglia e anche dei suoi nemmeno i defunti possono sottrarsi alla sua smania di potere Finalmente, ecco la simbiosi, la sento forte ora il controllo completo sul mio esercito Dovete distruggerle! Mortimus, ma se questi guerrieri sono già morti una volta, come facciamo a sconfiggerli? Franchet, ritirati! Attiva il ponte e torna alla base! No! Ho intenzione di rimanere al tuo fianco Potrebbe servirti un medico quando sarà finita No! No! Ascolta, io suggerisco il sezionamento Ottimus Piccoli sono i pezzi, meglio è Ottimo consiglio, vecchio mio Mi sono impadronito dell'energono scuro E quando cadrai, Optimus Anche tu farai parte della mia armata Non si a chiude le sc rampante Sox